Io sono rosso nella mia spada, l'acciaio è fatto il mio corpo, il fuoco scorre nel mio sangue. Sconosciuto alla morte e ignorato dalla vita, ho creato oltre un migliaio di ame. Ecco, essendo ben consapevole del dolore che aveva causato, creando tutte quelle spade e quelle armi, con queste mani che non hanno potuto tenere e salvare nessuno e niente, così io prego l'imitato lavoro di ame.